Importante novità in merito al Parco Naturale La Foresta di Altavilla Silintina, il bellissimo polmone verde a pochi passi dal centro abitato. E' stata infatti stipulata una convenzione tra l'amministrazione cumulale e l'associazione Libera Caccia. L'accordo prevede la manutenzione ordinaria, la sorveglianza e l'organizzazione di manifestazioni da parte dell'associazione. Chiaramente il Parco Naturale La Foresta sarà aperto a tutti e anche altre associazioni potranno organizzare iniziative. Ai nostri microfoni l'assessore Franco Cembalo e il presidente dell'associazione Libera Caccia, Ettore Camera. Stiamo uscendo dal lockdown dove tutti i parchi pubblici erano chiusi e adesso vogliamo far rifunzionare questo bellissimo parco comunale che è a nostra disposizione. Abbiamo colto al balzo la proposta scritta e fatta dall'associazione Libera Caccia di Altavilla presieduta da Ettore Camera che si sono offerti a voler risistemare il parco gratuitamente, chiaramente soltanto con la fornitura di materiale che sicuramente noi come Comune dobbiamo assicurare. Loro ci metteranno la loro bravura, ci metteranno il loro lavoro gratuitamente e vigileranno anche sugli eventuali danni che i vandali potranno arrecare. Quindi noi come Comune siamo profondamente orgogliosi di questa proposta che dei cittadini hanno fatto. Dei cittadini, non cittadini qualunque, ma bensì un'associazione di vigilanza che è già attiva da anni sul nostro territorio e quindi è sinonimo di sicurezza. Questo non vuol dire che il parco sarà chiuso, il parco sarà aperto, sarà fruibile da tutti come è sempre stato, però saranno tutti controllati dalla nostra associazione Libera Caccia con il nostro Presidente, caro amico Ettore Camera. Sicuramente è un bulmone verde per questo Comune, visto che noi stiamo in campagna, ma questa è la storia del nostro Comune. Per il passato, sia la nostra che la vecchia amministrazione, ha cercato di far fruire questo parco da tutti. Abbiamo un anfiteatro bellissimo, quindi naturale, dove ci sono state delle importanti manifestazioni. Quindi possiamo sicuramente dire che questo è il nostro orgoglio, è uno dei parchi più belli del Cilento. Dopo che abbiamo visto gli atti vandalici fatti nel parco, allora abbiamo ritenuto opportuno intervenire con la nostra associazione, che sì, ok, è Libera Caccia, ma non solo Caccia. È un modo per avvicinare i ragazzi giovani all'ambiente, perché noi abbiamo delle guardie zoofile, guardie ambientali, eccetera. E allora abbiamo deciso, abbiamo chiesto all'amministrazione di intervenire per salvaguardare questo polmone di Altavilla Silentina importantissimo, questo parco, il parco La Foresta, e per aiutare un po' i ragazzi ad avere il contatto con l'ambiente. Noi abbiamo un sacco di progetti, in effetti, quello di organizzare qualche giornata, anzi qualche serata, con i ragazzi di farli campeggiare, di farli stare a contatto con l'ambiente. La nostra associazione punta più che altro sui ragazzi, perché abbiamo trovato in uno stato pietoso questo parco, abbiamo raccolto un sacco di spazzatura in giro e abbiamo visto che è frequentato da molti giovani, ma non per apprezzare l'ambiente, ma per nascondersi e alla fine per sporcare l'ambiente. Questa è una cosa negativa per noi. Inoltre, nell'ambito di questa convenzione, in effetti, noi dobbiamo fare la vigilanza su questo parco, mettere delle fototrappole e, diciamo, di vigilare per fare in modo che il parco si mantenga integro. Faremo anche la manutenzione ordinaria, anche perché ci sta l'anfiteatro, che è un bellissimo anfiteatro fatto tutto in legno, che sono due anni almeno che non viene curato, e faremo un'attenzione sull'anfiteatro e tutte le staccionate da sistemare, in modo che rendiamo il parco in sicurezza. Chiaramente invogliamo tutte le associazioni a organizzare manifestazioni a livello culturale, a livello musicale, eccetera, e noi garantiremo la nostra vigilanza.